Sì, non l'ho abituato. Lui no, ma lui sì. Ha un carattere da stare. Guarda, guarda come si mette lì, che ti fa vedere, è in posa e ti fa vedere. Ehi, mi è andato un attimo. Miglia, sei bravo, mangia più calma. Ma lui non sa mangiare più calma. Lui ingoia tutto. Mangia pure peste di ucidio. No, no, lo lascia lì. No, vedi, vedi. Plastica, però è buona. Però è un po' tende. No, è l'altro, l'altro. Buttalo pure via quello. No, quello buttalo via. Basta, basta, basta. No, 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 non è buono. Via. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Grazie.